Chissi confesso, domini potentes, venchia la natura puri per almeno. Siero dato Gesù Cristo. Sì, ma è stato. Beati Rocchi, soffraganti, cos meriti, per i meriti di San Rocco, O Signore, facci sicuri, salvi da ogni male, contagione, da ogni male del corpo e dell'anima. Così fa pregare l'orazione della Messa e della Festa di San Rocco. E così ho cantato all'inizio della Messa. Ma bisogna che questa preghiera sia vera, sia sincera, non sia il contorno di una festa. È così facile trasformare le feste di Dio in sagre degli uomini. occorre che la preghiera sia vera. Facci sicuri da ogni contagione, da ogni male dell'anima e del corpo. sicuri da questo. Sicuri. L'ultima processione che abbiamo fatto di San Rocco con la Santa Reliquia e la Statua è stata nell'agosto del 2019. Siamo nell'agosto del 2022. Ci è data la grazia di portare a fare al completo il gesto pubblico di preghiera di questa festa carissima. Nell'ultima processione del 2019 non sapevamo certo cosa ci attendeva. Si era ancora nel tempo in cui se io accennavo alle pestilenze mi dicevano non la parli ancora come con roba del Medioevo e ci siamo finiti dentro. Il mondo cosiddetto moderno non è migliore di quello del Medioevo e deve combattere con le malattie quelle che si diffondono. Adesso abbiamo ogni quarto d'ora un avviso di un virus nuovo come al solito la modernità o c'è solo una cosa o ne parla troppo. Gli squilibri di chi non è equilibrato ma certamente non sapevamo che cosa ci attendeva. E abbiamo imparato almeno chi ha il cuore buono ha imparato che questa preghiera di essere messi al sicuro da ogni contagio dell'anima e del corpo è una preghiera vera che occorre fare. Possiamo dire con più verità questa preghiera a Dio per l'intercessione di San Romo. Ho ben inteso il cattolicesimo è molto equilibrato perché è divino bisogna evitare il materialismo e il sopranaturalismo mi spiego molto semplicemente tutti i mezzi dell'intelligenza umana compresa non solo l'arte non la scienza l'arte vanno messa in campo perché sono il mezzo indiretto con cui Dio interviene per mezzo degli uomini che ha fatto sapienti e intelligenti e caritate ma bisogna evitare oltre il sopranaturalismo anche il naturalismo quello che non che non vede mai che Dio può intervenire direttamente quando vuole come vuole nell'istante che vuole superando o mettendo tra parentesi le leggi della natura che lui ha fatto se non facesse questo Dio non sarebbe Dio ma è così forte la mancanza di fede che quasi tutti hanno che nemmeno nella prova di questi tre anni si sono raveduti nell'inverno 19-20 io pensavo l'illusione è sempre l'ultima a morire di vedere tante persone in ginocchio a implorare e poi a ringraziare non è stato così fa parte della non intelligenza del non guardare i fatti e gli avvenimenti e di non considerare mai sul serio la potenza di Dio ma noi siamo qui per implorare e per ringraziare e ringrazio anche il signor sindaco qui presente penso non solo per rispetto a questa chiesa e a questa porzione del comune ma per un sincero ringraziamento perché in qualche modo a Dio siamo stati preservati dal peggio ed è importante che l'autorità pubblica ringrazia Dio con il popolo è essenziale nel cristianese non basta che ci sia il Papa di questo cuore ci vuole l'autorità dello Stato e ringrazio di cuore perché questo è il cristianese non c'è separazione tra il mondo e il cielo tra la vita civile e la vita religiosa c'è distinzione e non separazione perché tutto dipende da Dio io devo dirvi l'ho detto qualcuno ma devo dirvelo solennemente che da tre anni ogni giorno ogni sera al carale del sole io ho benedetto la porzione di questo popolo e tutti con la reliquia di San con la vera reliquia di San non ho mancato un giorno concepisco così il sacerdocio cattolico il sacerdocio cattolico è fatto di cose che non si vedono oggi ve lo dico ma l'ho fatto per tre anni e continuo a farlo sempre e ho chiesto che voi foste potenti e che sarà necessario affrontare il male non fosse troppo e ho promesso con voi e per voi se preservati dal male di servire di noi e questo voto lo rinnovo oggi è tutto vero tutto dipende dal Signore tutto dipende dall'intercessione dei Santi il mondo guarda come strani quelli che credono così cioè i cattolici cattolici veri non bravi veri che hanno la fede che credono all'intervento sopranaturale avete per questo è messa questa epistola della Messa di San Rocco spettacolo infatti sumus siamo fatti spettacolo ma spettacolo oggi è la società dello spettacolo non è lo spettacolo buono sei ridicolo siamo fatti ridicoli dice San Paolo per il mondo siamo giudicati folli stulti pazzi stupidi stultus per causa di Cristo fino al momento presente patiamo la fame soffriamo la sete siamo nude veniamo schiaffeggiati andiamo raminghi e fatichiamo laurando con le nostre proprie mani è un riferimento alla vita benitente di San Rocco pellegrino certamente ma anche alla condizione morale dei cristiani in questo mondo svillaneggiati auguriamo il bene perseguitati sopportiamo oltraggiati rispondiamo con parole dolci purgamento siamo diventati la spazzatura l'immondizia di questo mondo questo dice San Paolo chi crede alla vita soprannaturale è giudicato così ma è nel vero anche se resta un piccolo grece non è il numero che fa la verità il mondo può guardarci come strani guarda coloro come che pregano Dio e i Santi per i mani del corpo e dell'anima come strani ma quando dico mondo non dico soltanto quelli che non credono più in Dio dico anche quelli che nella Chiesa stanno seguendo le mode del mondo e non credono più all'intervento diretto di Dio e all'intercessione potente dei Santi non guardano il cielo sono in qualche modo degli agnostici cristiani anche San Rocco pellegrino cristiano e santo fu visto come uno stolto e poi come un nemico voi sapete che fu incarcerato lui che ha che ha pregato e ha cercato Dio e ha fatto del bene lungo la strada è stato visto come una spia straniera un nemico i poveri però gli umili riconovero il suo nella sua vita l'intervento della grazia guariva lui malato guariva gli abitanti con il segno della croce allora domandiamo la grazia di rinascere nella fede e di essere certi della potenza di Dio se la vostra fede fosse come un granello di sinabe spostereste le montagne dice il Signore è davvero preghiamo così in questo giorno santo mentre onoriamo Dio per l'intercessione di San Rocco sia lodato Gesù Cristo Sampone onoriamo di den Grazie a tutti.